Non sfreni, non sfreni, se che non è sul posto, ok, 1.000, 2.000, ok, succede un casino, quella non c'è più, ok, fa doppia la presa, Sì, con le due mani, perché questo lo farà è che lo farà bene, quindi lo farà verso il suo posto, ok, ma se lo farà, Beh, mi piace di tutto il Il riso è un'altra parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.